Tutto pronto per il Trapani Comics in programma dal 24 al 26 maggio alla Villa Margherita. L'evento, giunto alla sua quinta edizione, rappresenta un'importante vetrina per esplorare le tendenze e le innovazioni nel settore dell'intrattenimento digitale e narrativo. Tantissime le novità di quest'anno, con tanti ospiti, conferenze, workshop e attività interattive. Abbiamo un carnet ricchissimo di ospiti, abbiamo più di 30 ospiti soltanto per singole aree che comunque sarà visibile più tardi nel programma che rilasceremo. Comunque abbiamo tante nuove aree che abbiamo anche implementato quindi c'è esattamente attività per chiunque nella famiglia. Ci sarà anche Alex Mucci, una creators con oltre 9 milioni di followers, tanti gli ospiti, posso dire quelli più amati dai ragazzi tipo i DF, poi avremo il Cerbero Podcast con annesso al Cerbero Party che sarà in una location esclusiva. La cosa bella di quest'anno è che non ci sono restrizioni o meglio tutti gli spettacoli saranno fruibili con l'unico biglietto giornaliero. Gli ospiti sono veramente tanti quindi non me li ricordo l'età che avanza ma come diceva Eric il programma uscirà oggi, poi domani più tardi e quindi vi consigliamo di consultarlo perché c'è troppa roba.